Sono partito da Udine, sono andato fino a Reggio Calabria tutta l'Ionica, ho preso traghetto per Mestre, ho fatto tutta la Sicilia e sono tornato di nuovo a Reggio Calabria e in pratica adesso sto facendo l'altra parte dell'Italia. Volevo fare, visto che non parlavano più della guerra perché ormai è entrata un'abitudine, tanto lì ogni giorno bombardano, ogni giorno muoiono bambini, anziani, più che altro quelle persone che non riescono a scappare, a fuggire, sotterranei, perché essendo attaccati alla loro casa salgono sempre su. Ho detto io prendo la bicicletta, metto la bandiera del mio paese e chiedo stop alla guerra. Napoli è stata una delle città più accoglienti dove siamo riusciti a costruire una rete che è andata al di là dell'amministrazione locale ma anche con la diocesi, la prefettura, la procura, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo accolto oltre 7000 persone, soprattutto donne e bambini, abbiamo avuto un'attenzione molto ai bambini disabili, alle fragilità e devo dire che questa città è stata come sempre la città che ha dimostrato accoglienza, ci sono case private che si sono aperte, anche quelle degli immobili della diocesi, di tutte le associazioni e ancora stiamo lavorando in stretto contatto con la protezione civile perché quando arriva l'esigenza di ospitare nuove persone noi siamo subito operativi. La guerra esiste ancora, purtroppo sembra diventato quotidianamente solo un titolo e magari non ci facciamo più tutta l'attenzione che invece dovremmo continuare a prestare a questo evento così tragico e brutale che continua a esserci a pochissimi chilometri dal nostro paese. Quindi un ringraziamento per questo suo importante segnale, questa testimonianza che ci ricorda invece l'importanza di dire ancora stop alla guerra.